Per adesso sto un po' valutando tutto quello che mi si può presentare. Dopo una stagione del genere vorrei valutare tutto per bene, prendere la decisione migliore possibile. Ci sono tante voci, ho letto tante cose, alcune vere, altre un pochino meno. Diciamo che sono quelle vere. Neanche quelle finte. Però voglio valutare tutte le mie possibilità perché credo che sia una decisione molto importante, forse ancora più importante rispetto a quelle del passato. Quindi voglio aspettare, valutare tutto per bene e cercare di continuare su questa strada e prendere la decisione migliore. La scelta ideale sarebbe una squadra che apre forza anche l'Europa Riccardo Mastro. Assolutamente, l'obiettivo è quello di cercare di trovare una squadra che mi permetta di fare uno step ulteriore. Credo che i treni passino una volta sola nella vita, purtroppo non sempre ricapitano occasioni molto importanti. Quindi se c'è la possibilità di prendere un treno che mi permetta di continuare a salire di livello giocando, però di un piano superiore vorrei prenderlo e sfruttare l'occasione.